non fare niente bella ma oh sto registrando e ho bevuto la coca cola ma che c'entra sto registrando scusatelo ragazzi ma se ho la già fiamme se non lo faccio mica apposta ma rotti a parte se non vi scrivi entro rotti secondi riceverai a casa tua ma basta va bene non faccio più bravo allora ragazzi dai adesso aspetta questo video dovrebbe uscire lunedì ma lo facciamo uscire venerdì dai 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 va bene stiamo con un tavolo lui si chiama antonio non lo potete discriminare questa discriminazione hai capito ragazzi ce ne dobbiamo andare adiea